Le imprese della Valtellina e della Valchiavenna hanno un comportamento virtuoso e responsabile verso la società. In Lombardia solo Milano fa meglio. Un dato emerso dall'ultimo bando Buone Prassi, iniziativa che quest'anno giunge al settimo atto. Nell'ultima edizione sono state 18 su un totale di 136, quindi 13%, le imprese valteinesi premiate per essersi distinte per il proprio impegno socioambientale. Tra le realtà che possono freggiarsi dall'ambito sigillo, il credito valterinese, nel mondo delle cooperative la letteria sociale di Chiuro e nel settore multiutility troviamo Secam, società per l'ecologia e l'ambiente che in provincia di Sondrio è attiva nei servizi di igiene urbana, servizio idrico integrato e nella produzione di energia elettrica da fonti pulite e rinnovabili. Le nostre aziende sono sempre più attente alla valorizzazione del capitale umano e ai temi sociali e ambientali, commenta il presidente della Camera di Commercio di Sondrio, Emile Bertolini. Nell'ultimo bando Buone Prassi, aggiunge Bertolini il nostro sistema si è riconfermato eccellente. La provincia di Sondrio è infatti la più piccola, la Lombardia, con meno del 2% delle imprese iscritte, ma in quanto ad aziende virtuose è seconda solo alla provincia di Milano. La partecipazione a nuovo bando è aperta a tutte le imprese, in particolare l'iniziativa è rivolta a quelle che si distinguono per il loro impegno e per il comportamento responsabile verso la società, l'ambiente e gli stakeholder, quindi i portatori di interesse, il personale, i clienti, i fornitori, le comunità locali. Le categorie di riferimento contenute nel bando sulle Buone Prassi sono 5, ambiente, conciliazione, famiglia lavoro, mercato, società, governo e gestione dell'azienda. Ma quali sono i vantaggi riconosciuti agli imprenditori socialmente responsabili? In primo luogo il nome della loro ditta verrà messo in evidenza. Le imprese selezionate riceveranno infatti ampia visibilità nel repertorio delle Buone Prassi online. Uno strumento collegato ai siti delle Camere di Commercio Lombarde e di Regione Lombardia che dà una vetrina di riprestigio e visibilità sul territorio. Ma non è tutto, i vincitori parteciperanno infatti all'evento di premiazione in agenda il 28 novembre con la consegna di attestati di riconoscimento. Per aderire al bando, specifica la Camera di Commercio di Sondrio, c'è tempo fino al prossimo 7 settembre.